Buonasera, fra pochissimo saremo in onda con il telegiornale, con ancora notizie che riguardano l'epidemia. I numeri continuano a scendere. Siamo sotto i 4.800 casi e le vittime oggi sono state 125, ma 24 riguardano morti dei giorni precedenti che sono stati conteggiati solo ora in Campania. Il tasso di positività è ancora in discesa all'1,6% e i ricoveri sono per la prima volta da molto tempo sotto i 10.000 nei reparti ordinari. Tutti i numeri che confermano quindi come il Covid stia lentamente arretrando anche grazie alla massiccia campagna di vaccinazione. Abbiamo superato quota 30 milioni di dosi somministrate. Non solo, ma il generale Figliuolo, che guida questa emergenza sotto il profilo sanitario, chiede ancora più impegno ai medici di famiglia, ai farmacisti, agli stessi infermieri che saranno coinvolti. Mentre con le regioni c'è l'intesa perché si proceda, come è stato fatto finora con la conferenza proprio delle regioni che dice semmai noi vogliamo fare di più. E questa è la risposta agli scambi anche polemici che ci sono stati nelle ultime ore. Queste le notizie che riguardano direttamente il Covid. Poi ce n'è una che arriva dal Portogallo, dall'Ecofin, che è riunito oggi in una di queste riunioni informali. Importante perché ci ha ricordato che il patto di stabilità è sospeso fino a tutto il 2022. Non solo, ma si comincia a lavorare alla nuova tassazione green che deve riguardare tutta l'Europa, che si prepara a quella transizione ecologica che sarà favorita dall'enorme finanziamento del recovery plan che riguarda tutti i paesi dell'Unione. Vedremo che cosa accadrà in questo senso. C'è una notizia importante che è arrivata pochi minuti fa e che riguarda l'uccisione, lo ricorderete, dell'ambasciatore Attanasio che morì in un agguato in Congo il 22 febbraio di quest'anno insieme al carabiniere che lo scortava e all'autista. Il presidente di quel paese dice che ci sono stati degli arresti, che sicuramente c'era un'organizzazione che ha colpito il nostro diplomatico e che attualmente è sotto interrogatorio. Sono sotto interrogatorio queste persone. Vedremo gli sviluppi di questa notizia che naturalmente è molto importante. E poi parleremo della tregua a Gaza che continua a reggere due giorni e mezzo e non si spara e questa è la buona notizia. Ma c'è ancora parecchio da mettere a punto per quel che riguarda la sicurezza di quella regione. Poco fa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è arrivato un invito a rafforzare ancora questa tregua raggiunta fra Israele e i palestinesi. E poi c'è un'ampia e importante pagina di sport. La buona notizia riguarda la Ferrari che domani a Monte Carlo partirà in pole position con Leclerc davanti a Verstappen. Leclerc che poi proprio nella parte finale delle prove è andato a sbattere contro un muretto. E poi c'è stato il Giro d'Italia con una tappa importante e un'italiana con il record del mondo di nuoto. Pochi secondi e ci sono i titoli. Vi aspetto. In Italia continuano a scendere i contagi. Meno di 4.800 i nuovi positivi. 125 è il computo delle vittime. Ma ci sono 24 morti in Campania relative a mesi scorsi e che finora non erano state conteggiate. Il tasso di positività è all'1,6% in calo rispetto all'1,9 di ieri in diminuzione anche gli accessi nelle terapie intensive e i ricoveri. Sono meno di 10.000 i malati negli ospedali. In Italia superate le 30 milioni di dosi di vaccino somministrate ma ci sono ancora più di 4 milioni di anziani da coprire. Il commissario all'emergenza Figliuolo, dopo aver richiamato le regioni ad attenersi al piano, ora punta ad arruolare anche i farmacisti. Stiamo rispettando le linee guida, ribattono i governatori, che dall'Alto Adige alla Sicilia moltiplica iniziative ed eventi per vaccinare. Gli stati membri torneranno ai livelli pre-pandemia entro la fine del 2022, assicura il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis. Fino a quel momento il patto di stabilità resterà sospeso, ma non oltre. Al centro dell'Ecofin informale di Lisbona la realizzazione del Green Deal attraverso anche la revisione della tassazione dell'energia e una nuova fiscalità che penalizzi l'import inquinante. Ancora scintille dopo la proposta del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, di creare un fondo per i giovani da finanziare con una tassa in successione sui patrimoni di oltre 5 milioni di euro. Letta ribadisce che non intende fare retromarcia sull'idea che è anche illustrato al Premier Draghi. Gli replica Salvini invitando a tassare le multinazionali a partire da Amazon invece che chiedere nuove imposte agli italiani. Dopo 19 mesi la Ferrari torna in pole position. Leclerc, sul circuito casalingo di Monte Carlo, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 per la rossa e l'undicesima pole nel Principato. Macchiata solo da un incidente contro le barriere a fine sessione. Al suo fianco Max Verstappen in seconda fila a Bottas e l'altro ferrarista, Sainz. Di nuovo buonasera. Allora, l'epidemia in Italia continua a rallentare. Sono numeri che confortano anche grazie al grande sforzo che si sta compiendo sul versante delle vaccinazioni che sicuramente contribuisce al raffreddamento dei numeri dei contagi che stavolta oggi sono scesi sotto quota 4.800 con un tasso di positività che è in calo rispetto a quello dell'altro giorno di ieri che era all'1.9, oggi siamo all'1.6 e con un numero di morti 125 che fa intravedere anche una barriera psicologica, quella delle 100 vittime, sì perché nei conteggi di oggi ci sono dei morti dei giorni scorsi che sono stati aggiunti solo oggi. Subito i numeri e poi parleremo delle vaccinazioni. Tutti gli indicatori sono ancora in miglioramento ma il tasso di positività, la percentuale tra positivi e test, il dato più interessante nel bollettino odierno del Ministero della Salute, 1,6% ed è il più basso dall'inizio del 2021. Prosegue la discesa della curva epidemiologica con un ulteriore calo dei contagi. I casi oggi sono 4.717 rispetto ai 5.218 di ieri e con 286.603 tamponi effettuati, un numero maggiore rispetto a 24 ore fa quando ne sono stati processati 16.800 in meno. Continua a diminuire il numero delle vittime, oggi 125, ieri sono state 218, un dato dovuto alla campania che ha aggiunto 24 persone che hanno perso la vita nei mesi precedenti. Significativi i dati sulla tenuta delle strutture ospedaliere. In terapia intensiva ci sono 1.430 persone, in calo di 39 rispetto a ieri, mentre sono meno di 9.500 le persone ricoverate nei reparti ordinari, 437 in meno rispetto alle ultime ore. Un quadro incoraggiante che riguarda tutte le regioni classificate a rischio basso con l'RT nazionale scesa a 0,78 e l'incidenza dei contagi a 66 casi su 100.000 abitanti, ad un passo dalla soglia dei 50 casi, limite al di sotto del quale torna ad essere possibile tracciamento dei contatti. Situazione che potrebbe portare dal 1 di giugno Friuli-Venezia-Giulia, Sardegna e Molise, già in fascia bianca dove non ci sarà più il coprifuoco e tutte le attività, tranne le discoteche, saranno riaperte. Dovranno essere mantenute solo le regole di comportamento. Intanto, dal lunedì tutta l'Italia si colora di giallo, compresa la Val d'Aosta, unica regione ancora in arancione. Uno scenario positivo dovuto, spiegano gli esperti, alle misure adottate e alla campagna vaccinale che prosegue anche con l'immunizzazione delle isole minori in vista della ripresa del turismo. Dopo le olie e le tremiti, anche i residenti di Ischia sono stati immunizzati, insieme a quelli di Capri e Procida, mentre addirittura d'arrivo la vaccinazione delle piccole isole dell'arcipelago toscano e di Carloforte in Sardegna. Segnale di ripartenza anche in alcune località di montagna, dove sono stati riaperti nel fine settimana gli impianti di risalita, complice la neve in alta quota. Un avvio premiato dal tutto esaurito, come sono stati presi d'assalto i centri commerciali, finora rimasti chiusi nel weekend. Presto potranno tornare i centri estivi. I ministri della Salute e Speranza della famiglia Bonetti hanno firmato l'ordinanza che contiene le linee guida nel rispetto delle norme, che vanno dall'obbligo di tenere un registro delle presenze per il tracciamento all'utilizzo delle posate monouso fino agli ingressi scaglionati. La più grande campagna di vaccinazione della storia si concentra sul presente, ma guarda anche ai prossimi mesi. Ci sono ancora più di 4 milioni di anziani da coprire e tra gli over 60 le iniezioni sembrano rallentare. Per questo il commissario all'emergenza Figliuolo punta ora all'arruolamento dei farmacisti. In campo almeno 20.000 professionisti potrebbero aiutare a recuperare i numeri sfuggiti finora. Ieri il generale aveva scritto ai governatori in una lettera formale, basta annunci non concordati con la struttura commissariale. Se c'è stata qualche stravaganza, prima dell'arrivo del generale citofonare a governi precedenti al Parlamento, non alla conferenza delle regioni, ribatte il governatore della Liguria Toti, che con i colleghi di Piemonte e Friuli rivendica il ruolo delle regioni in trincea, pur nel rispetto del piano nazionale. Sono oltre 30 milioni le somministrazioni di vaccino contro il Covid-19 effettuate nel nostro paese e le nuove linee guida prevedono un sistema di vaccinazione sostenibile, stabile nel futuro e che sarà garantito da medici, farmacisti e tutti gli operatori del sistema sanitario nazionale. Da qui l'invito di Friuliolo alle regioni ad aumentare in maniera graduale il contributo legato alle vaccinazioni giornaliere, mantenendo sempre operativi gli hub vaccinali. In una fase successiva poi si passerà a un sistema delocalizzato, molto più capillare e vicino ai cittadini, che permetterà di coprire meglio soprattutto gli anziani e i soggetti fragili. Il piano prevede infatti che gli infermieri diventeranno i nuovi vaccinatori a domicilio, grazie al protocollo appena firmato tra Ministero della Salute, Regioni e Sindacato della categoria. Intanto sul tavolo di Friuliolo sempre oggi è arrivato l'accordo sull'interscambio dell'anagrafe vaccinale per la copertura dei turisti, firmato da Piemonte e Liguria. Il documento prevede che i residenti in Piemonte potranno ricevere la vaccinazione anti-Covid presso i punti vaccinali della Liguria, così come i residenti in Liguria potranno ricevere la medesima vaccinazione presso i punti vaccinali del Piemonte. Cirio ha fatto sapere di aver coinvolto anche la Val d'Aosta. Questa è la situazione sanitaria in Italia, ma poi c'è l'altra grande incognita dell'emergenza Covid, quella che riguarda la ripresa economica. Bene, c'è ottimismo a Bruxelles sui numeri che l'Unione potrà fare nei prossimi mesi. La ripresa c'è, è già in corso e si conferma di giorno in giorno più vigorosa, proprio grazie anche alla campagna di vaccinazione che sta consentendo a tutte le nazioni europee la riapertura e la ripartenza in sicurezza. E si guarda già al dopo a quegli aiuti che sono ancora indispensabili e che vanno mantenuti. Questa è l'idea di Bruxelles per quest'anno e per il prossimo. A partire dal 2023 non ci sarà più la deroga al patto di stabilità che c'è stata finora e soprattutto si comincia già a guardare alla nuova Europa Verde che il Recovery Plan sta disegnando. Tutti gli stati membri torneranno ai livelli pre-pandemia entro la fine del 2022 ma è importante non ritirare gli aiuti. Il giorno dopo il G20 sulla salute di Roma sono i ministri delle finanze dell'Unione Europea a riunirsi in maniera informale a Lisbona e le parole del vicepresidente della Commissione Dombrovskis rilanciano l'entusiasmo dopo più di un anno di sofferenze per le nostre economie. La ripresa sta arrivando, le prospettive in Europa stanno gradualmente migliorando e ci si può attendere un rimbalzo forte già nella seconda metà del 2021 con una crescita del PIL del 4,2% quest'anno e del 4,4% il prossimo. Dombrovskis però avverte per non soffocare sul nascere la ripresa bisogna evitare di rimuovere prematuramente o in maniera non coordinata le misure di sostegno messe in campo finora e quindi anche il patto di stabilità resterà sospeso fino alla fine del 2022 ma non oltre. Una linea condivisa anche dalla Banca Centrale Europea, il vicepresidente De Gindos dice sarà cruciale continuare un approccio graduale prudente delle misure di sostegno per evitare fra le altre cose un'ondata di insolvenza delle imprese o come la definisce una zombificazione del settore aziendale. E a proposito di sostegno, Dombrovskis ha spiegato oggi a che punto è il recovery plan, i piani nazionali di ripresa e resilienza sonora sotto l'esame della commissione. Si lavora più velocemente possibile perché, dice il vicepresidente, sappiamo quanta fretta hanno gli stati di ricevere la prima tranche di denaro, cosa che può avvenire solo dopo il via libera del Consiglio, una procedura di circa un mese. I fondi potrebbero arrivare quindi a luglio e sempre a luglio il 14 la commissione presenterà il suo pacchetto di misure di tassazione per la transizione verde che si pone l'obiettivo di un taglio delle emissioni del 55% entro il 2030. È stato il commissario all'economia Gentiloni a presentare le proposte fra le quali la revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici che è di vent'anni fa e non si deve più basare sui combustibili fossili e un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, in modo tale che le aziende che inquinano all'estero e vendono i loro prodotti in Europa paghino come se inquinassero all'interno dell'Unione Europea per favorire così la realizzazione del cosiddetto Green Deal. Quindi dibattito europeo sulle tasse verdi diciamo così, dibattito in Italia su altre tasse, quella di successione proposta dal segretario del PD Letta per i grandi patrimoni a sostegno dei giovani e poi la replica di Salvini che dice basta con le nuove tasse, piuttosto pensiamo a aumentare le imposte alle grandi multinazionali straniere che operano praticamente senza pagarle da noi. Il nostro è un paese davvero dal cuore d'oro, vedo solidarietà diffusa a quell'un per cento più ricco per evitare che si trovi a pagare la tassa di successione come avviene invece in Stati Uniti, Regno Unito, Francia. Si rifà sentire così ironicamente via social Enrico Letta a far capire che sulla proposta della cosiddetta dote per i diciottenni, 10.000 euro da ricavare da una tassa per le successioni più ricche, quelle oltre i 5 milioni di euro, il suo PD non intende recedere. Lo dice, anzi lo scrive il segretario Demma dopo il colloquio avuto con Mario Draghi, definito franco e cordiale, utile se non altro a smussare l'iniziale risposta del Premier sorprendentemente spigolosa, i soldi ora dobbiamo darli, non prenderli, poi allungata con il rinvio a una riforma del fisco annunciata sì ma tutta ancora da scrivere. Ma forse prima ancora di Draghi e come sul disegno di legge Zana sembra essere Salvini l'obiettivo privilegiato, quello stesso Salvini invadente sulle riaperture e ancorato con il centrodestra a un'idea di tassazione non esattamente progressiva come la flat tax, il quale Salvini risponde a due stadi per dir così, prima dicendo di voler aiutare anche lui i giovani ma senza massacrare i nonni, quindi virando sull'ormai famosa tassa ai giganti del web che ora sotto la forte spinta della Yellen, segretaria al tesoro e di Biden, presidente, potrebbe far finalmente breccia anche in una fin qui molto timorosa commissione europea. Resta il fatto che per quanto marginale ed esclusivo sia il tema successione è più che sufficiente per riportare in primo piano la più strutturale delle polemiche nostrane destra-sinistra, quella sulle tasse da tempo diventata una specie di tabù generale in nome del consenso. Lo conferma non solo il netto respingimento di Forza Italia, con Forza Italia il governo si lavorerà esclusivamente per abbassare la pressione fiscale, dice il capogruppo, la Camera Occhiuto, ma perfino nello stesso partito PD dove il mondo ex-Renziano nicchia e solo dalla componente più di sinistra arriva un sostegno totale. Enrico ha avuto coraggio, dice il vice segretario Provenzano, è il primo segretario del PD che propone un aumento delle tasse per i super ricchi con un'esplicita finalità di giustizia sociale, concetto ribadito anche a maggior ragione. Da sinistra italiana, con Fratoianni, il problema delle diseguaglianze sociali non può restare irrisolto. La notizia di Cronaca del giorno arriva da Milano dove è stato arrestato un imprenditore farmaceutico che avrebbe commesso violenza su una ragazza, una 21enne, una studentessa 21enne alla quale aveva promesso uno stage e l'avrebbe violentata dopo averla drogata e potrebbe non essere l'unico caso di un abuso del genere. La personalità di un moderno barbablu, uno stupratore seriale che adescava giovani ragazze, le narcotizzava per poi abusare di loro. Il GIP di Milano, Chiara Valori, disegna un quadro di orrore e violenza nell'ordinanza che ha portato all'arresto ieri dell'imprenditore titolare dell'azienda farmaceutica Global Pharma, Antonio Di Fazio. 50 anni, ora a San Vittore con l'accusa di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali. A incastrarlo anche le foto, una sessantina trovate nel suo telefonino. Questa storia comincia con la denuncia un mese e mezzo fa di una studentessa della Bocconi racconta ai carabinieri di essere entrata in contatto con Di Fazio, conoscente dei genitori, con la promessa di uno stage formativo nella sua azienda. L'incontro sarebbe avvenuto lo scorso 26 marzo, ma il manager, invece di farlo andare in azienda, l'avrebbe portata a casa sua, un grande appartamento dove vivevano anche l'anziana madre e il figlio 12enne. I ricordi della giovane donna, dopo aver bevuto un caffè e una spremuta d'arancia svaniscono, si risveglierà nella sua abitazione stordita e con i vestiti del giorno prima. Nelle urine le verranno trovati 900 mg di benzodiazepine quattro volte, il limite giornaliero consentito. I carabinieri trovano a casa dell'uomo, in una nicchia della cucina, due confezioni di un ansolitico della famiglia della benzodiazepine, ma non solo, nei computer e nei telefoni, le prove della violenza. Fotografie inequivocabili che avevano lo scopo di documentare il trofeo, scrive il GIP conquistato dal Difazio, che va ad aggiungersi a quelli precedenti, perché ci sono altre foto, almeno altre quattro vittime, a partire da ottobre 2020, con le quali avrebbe usato sempre la stessa tecnica, potenti farmaci per sordirla e poi la violenza. L'uomo avrebbe cercato anche di crearsi un alibi. Una volta scoperta la denuncia, millantanno, un tentativo della ragazza di estorsione per 500 mila euro a causa di presunti problemi economici della famiglia, circostanza considerata non credibile da chi indaga, che descrive di Fazio un imprenditore a cui piaceva mostrarsi potente, un millantatore. A casa sua c'era anche un tesserino del ministro dell'interno, si sarebbe spacciato per agente dei servizi e per alto commissario per l'emergenza, solo perché la sua azienda aveva ottenuto appalti con la regione Lombardia per la fornitura di dispositivi di protezione. Al momento c'è solo questa denuncia contro di lui, ma gli inquirenti hanno fatto un appello. Chi ha incontrato l'imprenditore accusando successivamente uno stato di incoscienza? Ci contatti immediatamente. C'è una notizia importante che ci riguarda e che viene dall'Africa. Ci sono stati alcuni arresti nella Repubblica Democratica del Congo per l'assassinio il 22 febbraio scorso dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista locale avvenuti questi omicidi nel parco del Virunga. Sono persone sospettate e vengono interrogate, ha detto il presidente congolese Tzise Kedi, citato da un quotidiano locale. Al di là di questi sospetti, ha detto il presidente, c'è sicuramente un'organizzazione e queste persone hanno dei protettori. Dobbiamo mettere tutti gli elementi in fila. Abbiamo la collaborazione dei servizi italiani e stiamo lavorando duramente per raggiungere la verità. E veniamo invece alla situazione a Gaza. Poco fa il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto in una prima dichiarazione formale dopo la tregua il rispetto completo del cessate il fuoco fra Israele e Damas. I membri del Consiglio di Sicurezza si legge danno il benvenuto all'annuncio della tregua e riconoscono il ruolo importante giocato dall'Egitto. Sul campo la realtà è che da due giorni e mezzo, per fortuna, non si spara più. La tregua tiene. È monitorata da osservatori diversi, America, Egitto, Nazioni Unite, ma c'è di più. I canali diplomatici sono costantemente aperti. Ci sarebbero contatti e colloqui tra le parti e chi continua a mediare. La tregua è parere di molti. Deve essere consolidata e tiene perché tutti, sino ad ora, hanno compreso l'importanza del cessate il fuoco in vigore da due giorni e mezzo. Il nuovo capo della diplomazia americana, Blinken, sarà nell'area di crisi martedì prossimo, forse un giorno più tardi. Sembra comunque motivato e fermo su almeno tre punti per l'immediato dopo crisi. Ripartire dall'idea antica oramai di due stati che vivano vicini in pace, ribadire il diritto alla sicurezza dell'esistenza per Israele e partire subito con un piano di ricostruzione per Gaza da affidare alle Nazioni Unite. I primi due sono un classico del conflitto tra israeliani e palestinesi a cui va aggiunta di diritto la questione Gerusalemme capitale. Lontano dalla striscia anche oggi molte le manifestazioni di chi si dice al fianco della causa palestinese come a Beirut, a Londra, a Milano. Nel frattempo a Gaza e nelle città israeliane si fanno prove di prossima normalità. Dall'alto ecco le immagini di alcuni dei 1300 attacchi di aviazione e artilleria lungo la striscia. Ecco l'area dove sorgeva la Media Tower prima e dopo l'attacco israeliano e poi altri obiettivi più o meno mirati e comunque con gravi danni collaterali tra i civili. Nella striscia, secondo l'agenzia ONU, servono subito 38 milioni di dollari per gli interventi più urgenti per la popolazione. La vita intanto ricomincia anche dal mare, dal porto di Gaza che sembra estraneo a quanto accaduto dal traffico delle barche di pescatori che a sera riforniranno i mercati ai cittadini subitori aperti. Tra negozi distrutti e quartieri interamente rase al suolo si condivide il dolore delle perdite, desolazione e onoranze funebri. Scene già viste migliaia di volte a Gaza. Un uomo dice che nulla può essere più venduto a causa delle sostanze usate dagli israeliani che hanno danneggiato ogni capo all'interno del negozio. Un altro uomo si dice sorpreso dall'intensità dell'attacco israeliano. Dice avevo aperto questo negozio un anno fa. Lo dice sorridendo e aggiunge ora posso solo affidarmi alla volontà di Dio. E ora negli Stati Uniti martedì prossimo Joe Biden riceverà alla Casa Bianca i parenti di George Floyd. Ricorderete il nero ucciso da un agente che gli tenne per diversi minuti un ginocchio sul collo fino a farlo morire soffocato. Oggi torna ad attualità il dibattito sulla polizia violenta per un paio di casi vecchi negli Stati Uniti ma dei quali sono uscite proprio in queste ore le immagini che naturalmente fanno discutere. Una delle poche certezze di questa società delle immagini è che prima o poi il filmato arriva. E così è accaduto oggi per due casi che per l'ennesima volta stanno scioccando l'America. Il primo è quello di Ronald Green, l'afroamericano di 49 anni morto in Louisiana negli Stati Uniti nel 2019 durante un controllo stradale della polizia. Il video impressionante che per ovvi motivi non vi mostriamo integralmente racconta senza censure gli ultimi minuti della vita di Green. Quando i poliziotti che vogliono arrestarlo lo colpiscono ripetutamente con il taser, quando lo buttano faccia a terra, quando lo prendono a calci, a pugni, mentre lui grida di aver paura e si scusa ripetutamente fino a che è ammanettato, lo trascinano e lo bloccano sanguinante per nove minuti sull'asfalto dove perderà i sensi prima di morire. È stata la stessa polizia a diffonderlo ma solo perché l'agenzia Society Press era riuscita ad ottenerne due giorni fa con uno scoop una copia. Per due anni infatti le autorità si erano rifiutate di rendere pubblico il video registrato dalla telecamera in dotazione a uno degli agenti, cercando di far credere che Green fosse morto in un incidente stradale non a causa del linciaggio avvenuto nei soborghi della cittadina di Monroe e su cui è in corso un'indagine federale. Il secondo caso è molto simile, se non peggiore, perché è avvenuto all'interno di un carcere del Tennessee. Le riprese non solo documentano la morte di William Janet T, bianco, 48 anni, morto un anno fa mentre era immobilizzato a terra dalle guardie carcerarie, ma registrano anche la ferocia dell'aguzzino che mentre Janet T respira, fatica e chiede aiuto, lo deride e lo insulta dicendo non dovresti respirare. Case insomma che richiamano per vari motivi quello di George Floyd, l'afroamericano soffocato da un agente di polizia bianco a Minneapolis un anno fa e che verrà ricordato proprio martedì prossimo alla Casa Bianca dal presidente Biden e che ancora una volta riaccendono il dibattito sull'addestramento e sui metodi usati dalla polizia americana, sui quali sta cercando di intervenire il congresso con una riforma di settore prima che si riaccenda di nuovo la protesta delle piazze. E siamo allo sport con un'ottima notizia in casa Ferrari. Dopo poco meno di due anni e una rossa torna a partire in testa a un gran premio. Accadrà domani a Monte Carlo e il ferrarista in pole position è l'uomo di casa, Leclerc. La Ferrari torna in pole position dopo un anno e mezzo al termine di un weekend stranamente dominato. Lo fa con Charles Leclerc nella sua Monte Carlo, 300 metri da casa. Il ferrarista ha fatto interrompere la sessione di prove 18 secondi prima della fine a causa di un lungo all'uscita delle piscine. Bandiera rossa in tutti i tempi congelati con Leclerc in pole position al secondo posto Verstappen. 18 secondi più la fine di un giro in Formula 1 sono un'enormità. In quel momento l'olandese era in pista e nessuno può immaginare cosa sarebbe potuto accadere. Peccato, a bandiera rossa ci ha rovinato la possibilità di fare la pole, detto il pilota della Red Bull. Ecco, sono proprio le parole dei suoi avversari a rovinare la festa Ferrari. Anche Bottas, che partirà in seconda fila accanto a Carlos Sainz con l'altra Ferrari, si è lamentato. A fine sessione Leclerc quindi non era felice, quasi si vergognava dell'errore che ha compromesso la sessione a tutti. È un peccato concludere a muro, ha detto. Non c'è la stessa sensazione di gioia. Sono comunque felice, è anche un po' sorpreso di essere in pull. Qui non sono mai stato fortunato, ha detto Leclerc. Forse oggi Leclerc però è stato ripagato di tutte le sventure precedenti. È comunque la migliore disposizione sulla griglia di partenza per le rosse di Maranello da quasi 5 anni. Domani c'è il motivo di sperare di andare almeno sul podio, quasi un dovere con due macchine nella prima due file. Poi c'è l'imprevedibilità di questo circuito dove è impossibile fare previsioni. Ha faticato tantissimo invece Lewis Hamilton che ha fatto registrare soltanto il settimo tempo. Non solo Ferrari però, un'altra bellissima notizia arriva dalle europei di nuoto. Nella semifinale dei 50 metri rana Benedetta Pilato infatti ha stabilito il nuovo record del mondo con il tempo di 29 secondi e 30, cioè 10 centesimi in meno della precedente primatista. La statunitense Lilly King. E poi c'è il Giro d'Italia dove c'è stata la prima impegnativa tappa di montagna con l'arrivo in vetta allo Zoncolan, una delle salite mitiche in condizioni meteo, stavolta veramente difficili. Il successo è andato a Lorenzo Fortunato, 25 anni, un concittadino di Alberto Tomba, la sua prima vittoria nella Corsa Rosa. Il corridore emiliano ha preceduto di 26 secondi lo sloveno Tratnik e di 59 un altro italiano, Kovi. Giornataccia per Nibali invece che ha accusato 12 minuti di ritardo dal vincitore. La maglia rosa Bernal ha contenuto il ritardo in poco meno di due minuti e ha conservato la leadership della classifica. Davanti al britannico Yates, staccato di un minuto e 33, con il migliore degli azzurri Caruso, in ritardo di un minuto e 51 secondi. Vedete, condizioni veramente proibitive. Ci fermiamo un istante, non prima di avervi ricordato che dopo di noi gli ospiti di Lilli Gruber a otto e mezzo saranno Rossella Muroni, Luca Telese, Alessandro De Angelis e Francesco Borgonovo. Ci vediamo fra qualche istante. Allora, non ci sono aggiornamenti di rilievo, linea quindi a Lilli Gruber. Buon proseguimento di serata e noi ci vediamo domani. Arrivederci.